bentornati amici catolici altro video della serie che fine hanno fatto serie che numeri alla mano sembra essere molto apprezzata dalla maggioranza oggi parliamo di uno dei telefilmi più amati in italia ovvero i jefferson per sapere come sono continuate le carriere degli attori che hanno fatto parte di questa serie beh come sempre non dovete fare altro che aspettare che finisca la sigla partiamo ovviamente da uno dei due pilastri del telefilm ovvero sherman hemsley che nella serie è liroso e politicamente scorretto george hemsley che prima di lavorare in tv veniva da una carriera di tutto rispetto a teatro dopo la fine dei jefferson insieme a buona parte del resto del cast beh torna proprio a teatro questo perché la serie è stata chiusa senza una vera puntata finale e questa cosa ha fatto imbestilire sia i fan che anche tutti gli attori che hanno partecipato al telefilm e quindi ha spinto quest'ultimi a mettere in scena quello che per loro era il giusto finale che aspettava al pubblico dopo questa breve parentesi teatrale hemsley diventa protagonista di una nuova sitcom intitolata amen serie trasmessa anche dalle tv locali racconta le vicissitudini di un diacono che fa anche l'avvocato dall'etica non proprio specchiata e del suo rapporto con il pastore della sua chiesa che è anche fidanzato della sua unica figlia la serie in america ha avuto un ottimo successo e ha collezionato ben 110 episodi dopo questo telefilm e un'altra breve apparizione come sacerdote in sister sister altra sitcom di successo degli anni 90 sherman hemsley decise di abbandonare la tv ma non del tutto insieme a isabel sanford da cui era legato da una profondissima amicizia torna a vestire i panni del burbero george e lo fa in diversi spot e apparizioni televisive famosa per noi era comparsate in italia nel programma grand hotel i due tornano a teatro e anche questa volta interpretando i jefferson in una pista teatrale intitolata the real life of jefferson da ottimo musicista e compositore hemsley si prenderà qualche soddisfazione anche in quel campo pubblicando un paio di album di discreto successo muore nel 2012 per un tumore e qui c'è forse la parte spiacevole di tutta questa meravigliosa carriera hemsley che a dispetto del suo personaggio più famoso era una persona timidissima e riservata pensate che in tutta la sua lunghissima carriera ha rilasciato una sola intervista in cui parla della sua vita privata e anche in questa intervista non dice granché muore senza essersi mai sposato senza aver avuto figli e senza che si fosse a conoscenza di alcun suo parente in vita nel suo testamento lascerà ogni sua proprietà a isola hankington amica di lunghissima data che negli ultimi periodi della sua vita lo aveva assistito purtroppo come spesso accade qualcuno prova a fare il colpo gobbo prima che si potesse procedere alle sequie un certo richard thornton di filadelfia impugna il testamento dichiarando di essere il fratello di hemsley ne scaturirà una battaglia illegale che ebbe come conseguenza il ritardo di ben cinque mesi della sepoltura del corpo del povero attore il tribunale darà alla fine ragione alla hankington chiudendo una faccenda lasciatemelo dire e ora che abbiamo finito con il padrone di casa passiamo al vero padrone di casa ovvero la dolcissima wizzy isabel sanford dopo la fine dei jefferson come molti altri inizia ad apparire come guest star in parecchi delle film nel 1988 un syndication di reti private trasmette una sitcom ritagliata su misura per lei ovvero honeymoon hotel la serie che narrava le vicissitudini di una donna impegnata a gestire un hotel sempre in perenne pericolo di fallimento ha un esito piuttosto sfortunato ma non per colpa della sanford né per colpa degli ascolti la serie era partita benissimo e aveva in programma di superare le 100 puntate purtroppo solo dopo cinque puntate trasmesse de laurentis che allora era il principale produttore della serie fallire e lasciare quindi in braghe di tela il progetto che ovviamente venne chiuso dopo questa sfortunata esperienza torna a fare la guest star fino a metà degli anni 90 quando insieme al suo amico collega sherman hamsley riprende il suo personaggio di louise per una commedia teatrale che verrà portato in tour per tutti gli stati uniti commedia che abbiamo già detto si intitola the real life of jefferson poco dopo questa avventura si ritira definitivamente dalle scene morirà nel luglio del 2004 ed ora è il turno del personaggio che io personalmente ho più amato della serie ovvero florence marla gibbs che ricordiamolo prima del jefferson non era un'attrice professionista dopo la fine della serie debuttò immediatamente anche lei con una sua sitcom personale 227 si intitolava dove interpreta una casalinga che vive in un condominio all'indirizzo proprio di 227 lexton place il condominio è popolato da i più disparati personaggi appartenenti alla classe media ed è una versione molto simile ai jefferson ma con personaggi di estrazione più popolare anche il suo personaggio ha molti punti in contatto con florence nonostante comunque la poca originalità la serie ha un ottimo successo diventando una delle serie con protagonisti di colori più popolari in quegli anni confesso personalmente di non avere memoria di una sua edizione italiana ma se voi avete notizie ditemelo o scrivetelo nei commenti perché so che siete una community estremamente preparata e quindi come sempre mi aspetto da voi grandi cose finita la sitcom ha iniziato ad apparire regolarmente in parecchie serie televisive giusto per citare i più importanti e are il tocco di un angelo american horror story e this is us attualmente è un personaggio fisso della sop il tempo della nostra vita dove interpreta olivia e non ha nessuna intenzione di andare in pensione segnalo che oltre alla sua carriera da attrice marla è stata anche la proprietaria per anni di un jazz club ovvero il marla's memory dove si è spessa esibita come cantante e chi l'ha ascoltata dice che era molto brava una delle cose che all'epoca mi colpì di più del telefilm era il razzismo al contrario quel razzismo che george sforzi verso la coppia mista sua vicina di casa è indubbio che l'eleganza di roxy rocker ha contribuito parecchio a rendere indimenticabile un personaggio così difficile ma com'è proseguita la sua vita d'attrice dopo la chiusura del telefilm in verità non è che ha fatto poi molto oltre ad apparire in una signora in giallo e il love boat ma chi è che non lo ha fatto la sua comparsata più interessante è stata quando si è riunita marla gibbs nel telefilm 227 per il resto si è goduta la sua famiglia e soprattutto l'enorme successo di suo figlio lennie kravitz e tom suo marito amico e bersaglio di tutte le battute più caostiche di george anche lui finiti jefferson ha lavorato poco qualche comparsata in tv e un ruolo secondario in wall street il film di oliver stone nel 1994 è apparsi in una puntata di er la sua ultima apparizione degna di nota è in una puntata di willy grace se siete curiosi di sapere qual è è la ventiduesima puntata della prima stagione intitolata in italiano jack si sposa non potevamo esimerci di dare una sbirciatina alla carriera di paul benedict che nel telefilm interpreta lo strambo vicino di casa inglese benedict dopo la fine della serie torna al suo amore più grande ovvero il teatro teatro che fino alla sua morte nel 2008 sarà la sua occupazione principale lo sarà sia come attore che come regista e soprattutto di spettacoli off broadway questo però non gli ha impedito di comparire in diversi film di successo come caratterista è il professore di economia in cocktail ed è ancora un professore in il boss e la matricola oltre a questo è comparso come giudice nel film della famiglia adams la sua ultima comparsa è nella sitcom the drew carey show è morto a 70 anni nel 2008 per cause naturali e jenny la figlia di willis che poi si fidanzerà con lionel anche per berlinda tolbert ci sono apparizioni sporadiche in alcuni dei telefilmi più famosi er six feet under csi e poco altro il suo ultimo lavoro è una parte in un film indipendente del 2011 last ride on the midwest pacific ultimo ma non per importanza mike evans uno dei due attori ad aver interpretato lionel ho scelto lui per un motivo ben preciso perché è stato il primo a interpretare lionel quando ancora lo faceva in archivaldo e perché è stato quello che ha avuto tra i due più successo quando se ne è andato per la prima volta dalla serie fu per scrivere sceneggiature della sitcom good times di cui anche il creatore nel 1979 finita la sua esperienza con good times riprende il suo ruolo dei jefferson e lo mantiene fino alla ottava stagione dopo aver abbandonato di nuovo il telefilm è comparsi in qualche serie ma in maniera sporadica il suo vero lavoro infatti non è più l'attore ma l'investitore immobiliare pare che abbia messo su una discreta fortuna acquistando e rivendendo proprietà nell'island empire in california anche per questa volta è tutto se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi se volete sostenere il canale è possibile abbonarsi per la simbolica cifra di 3 euro e ottenere tra i tanti vantaggi anche la possibilità di scegliere insieme a me il prossimo telefilm di cui racconterò in retroscena e come sempre se volete che parli del vostro telefilm preferito scrivetemelo pure nei commenti